Un'idea ancora in fase embrionale ma che ha già raccolto un interesse da parte dei territori. Il gruppo Meetup Amici di Beppe Grillo, attivisti di Sala Consilina, con il referente Giuseppe Di Giuseppe, insieme ai gruppi Meetup 5 Stelle di Agropoli e Meetup Cittadini Sapresi in Movimento, lancia la proposta per l'istituzione della sesta provincia in Campania e assicura che entro il mese di febbraio se ne discuterà in un incontro pubblico. Un'idea a cui si sta lavorando concedendo anche la possibilità ai territori interessati di riflettere sull'opportunità di riunirsi sotto una nuova provincia, magari più vicina, in considerazione anche della vastità del territorio che la provincia salernitana deve coprire. Un territorio peraltro non omogeneo e con necessità che si diversificano in numerosi ambiti che siano sociali o infrastrutturali. Da qui l'idea di costituire la sesta provincia campana che vada quindi a suddividere la provincia di Salerno in una parte nord, che continuerebbe a rientrare nel territorio provinciale di Salerno, e la parte sud, che avrebbe un nuovo capoluogo di provincia. I gruppi Meetup del territorio, promotori dell'iniziativa, fanno sapere che a breve organizzeranno un incontro tematico finalizzato ad avviare una discussione sul tema e valutare la concreta possibilità di riunire territori accomunati da tradizione, storia e cultura e insieme tentare di arginare il fenomeno della desertificazione generale, sia dal punto di vista dei servizi, con i continui tagli che si è costretti a subire, la carenza infrastrutturale e ancor più il continuo abbandono da parte dei giovani e delle famiglie che fanno registrare un decremento degli abitanti. L'incontro che stiamo preparando fa sapere Giuseppe Di Giuseppe, vedrà la presenza anche di un esperto che ci aiuterà a valutarne l'effettiva fattibilità. Se si rivelerà tale, spiega ancora, coinvolgeremo anche le amministrazioni locali per chiedere loro di abbracciare l'iniziativa e magari farsene promotori. La situazione attuale ci vede dipendenti economicamente da Napoli e politicamente da Salerno e ciò non ci aiuta. Ad oggi non abbiamo neanche i numeri per eleggere i nostri rappresentanti perché il territorio, seppur vasto, conta solo 240.000 abitanti. Questa nostra idea, conclude Giuseppe Di Giuseppe, è nata con l'intento di riscattare un territorio con grandi potenzialità.